Pescara piange la scomparsa di Mimmo Grosso. Padovano, quante battaglie in nome della marineria pescarese avete portato avanti negli ultimi anni? Una grave perdita per la città di Pescara? Guarda, Mimmo Grosso ha ereditato una responsabilità che in passato era di un altro, ma lo ha ereditato e lo ha anche esercitato in modo più corretto e in modo più sensibile e far capire ai dotti, cioè alle persone che stavano dietro le scrivanie, che un patuto, un pescatore, riusciva a mettere d'accordo quelle persone. Le battaglie di Mimmo ne sono state tante e tantissime, non soltanto in Italia, non soltanto in Abruzzo, ma anche nei tavoli europei. Mimmo è stato uno di quelli che ha saputo portare avanti, ha elevato il livello culturale di tutta la marineria pescarese, ma io dico abruzzese, perché è riuscito a portare a termine una battaglia per quanto riguarda la difesa della sicurezza in mare dei pescatori. Il dragaggio Mimmo è stato in grado di convincere tutte le imprese della pesca di stare un anno fermo e far capire loro che stare fermi in banchina significava sensibilizzare il governo e dare loro il giusto merito, cioè quello di andare a lavorare con la sicurezza. Mimmo ha fatto battaglie non soltanto di manifestazioni, ma ha fatto anche delle battaglie politiche serie, dove gli interlocutori, tutti di destra e di sinistra, l'hanno sempre preso in considerazione perché lui era altruista e non ha mai fatto interessi propri. Mimmo è una persona a me cara e della mia città, della mia borgata. Mimmo è stato un fratello, Mimmo è stato vicino a noi anche quando i problemi non erano solo dei pescatori, perché lui diceva che la città di Pescara è una città di mare e tutti quelli che stanno vicino al mare meritano lo giusto riconoscimento. Grazie Mimmo per quello che hai fatto per la nostra città.